gentili telespettatori buona giornata quali sono le reazioni di conte speranza per diciamo chiamiamolo così le indagini su di loro che dovranno dovrebbero potrebbero portarli in perché questi hanno l'immunità i giudici chiederanno di procedere contro di loro e sarà il parlamento a maggioranza centrodestra a dover decidere il centrodestra non aveva chiesto una commissione d'inchiesta eccola qua al posto che la commissione d'inchiesta c'è la magistratura che apre un'indagine e ci sono degli indagati 17 quindi lasciate perdere la commissione d'inchiesta a questo punto dovete autorizzare a procedere i magistrati per stabilire le responsabilità di queste persone poi magari verranno assolti perché come disse giuseppe conte i magistrati quello che io ho fatto sono decisioni politiche e in quanto tali insindacabili si era alzato e se n'era andato e i giudici avevano detto arrivederci no sono decisioni politiche e in quanto tali insindacabili cioè voi non potete venire a questionare una decisione politica il giudice la magistratura non può questionare un azione una decisione politica a meno che non sia qualcosa di criminoso e qua c'è l'ipotesi di epidemia colposa quindi i magistrati adesso non stanno più questionando una decisione non stanno chiedendo più non stanno non stanno chiedendo a conte perché hai fatto quello no non è una domanda oggi c'è un'accusa di epidemia colposa non è più perché hai fatto quello è decisione politica in quanto tale insindacabile no epidemia colposa non è più è una decisione politica decisioni politiche che hanno portato a delle conseguenze tali da indagarti per epidemia colposa qui non mi puoi più dire decisione politica e in quanto tale insindacabile che cosa hanno detto i due e conte dice sono tranquillo tranquillo di fronte al paese ai cittadini italiani i cittadini italiani sono un po' arrabbiati direi beh non tutti non tutti lui dice io sono tranquillo di fronte al paese ai cittadini italiani per aver operato con il massimo impegno e con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra repubblica e il commento del presidente 5 stelle giuseppe conte che assicura la massima disponibilità a collaborare e ci mancherebbe altro prova non collaborare o non dare la disponibilità prova e poi vediamo aprendo dice da agenzie di stampa notizie riguardanti l'inchiesta di bergamo perché c'è stata una solita fuga di notizie come al solito c'è chi canta i giornali non so gli daranno qualche cento euro e mentre roberto speranza robbi per gli amici dice ho sempre pensato che chiunque abbia avuto responsabilità nella gestione della pandemia debba essere pronto a renderne conto ma che bravo mi vengono i brividi io sono molto sereno e sicuro di aver sempre agito con disciplina ed onore nell'esclusivo interesse del paese ho piena fiducia come sempre nella magistratura diciamo che sono quelle dichiarazioni telefonate cioè i due cosa hanno detto sono sereno ho fatto tutto tutto bene disponibilissimo a collaborare piena fiducia nella magistratura è proprio un iter cioè un decalogo di cose che ogni indagato dice tu mi indaghi guarda che io ho fiducia in te massima fiducia in te collaborare certo che collaboro perché ho massima fiducia in te e poi sei agitato ma no perché agitato sono serenissimo eh vabbè non avevamo il minimo segnale di partecipare al banchetto degli indagati fontana era stato sentito come persona informata sui fatti ed allora silenzio assoluto dice l'avvocato jacopo pensa di fontana oggi dice apprendiamo prima dai media senza alcuna notifica formale di essere tra gli indagati prendiamo atto che la procura di bergham ha sottolineato che la conclusione delle indagini non è un atto di accusa ma che cacchio vuol dire hanno concluso le indagini dalle indagini ci sono 17 indagati con l'ipotesi di epidemia colposa non è sufficiente questo i magistrati mica possono fare un'accusa c'è 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 un'ipotesi di reato e poi ci saranno dei giudici che giudicheranno perché eh chi imbasti cercherà di imbastire questo processo e l'accusa e poi ci saranno invece altri magistrati che eh invece dovranno giudicare quindi chi fa l'accusa non è poi quello che giudica perché è impossibile no tu che accusi non sei quello che giudica non riesco a capire la la dichiarazione dell'avvocato saranno cose tecniche giuridiche però non è che cambia molto anzi non cambia proprio niente con le dichiarazioni dell'avvocato avvocato e sì e intanto dice poi vedremo vedremo non è neanche un atto di difesa quindi non c'è accusa non c'è difesa è che ci sono 17 indagati per epidemia colposa ma l'avvocato dice non è un atto di accusa non è un atto di difesa ma chiamalo come vuoi chiamalo pino giuseppe chiamalo come vuoi ma il risultato non cambia anche l'ex assessore giulio gallera dice non ho ricevuto alcun atto di notifica e poi sono sereno tutti tutti sereni no tutti belli tranquilli sono sereno e garantirò come ho sempre fatto la massima collaborazione alla magistratura le stesse cose che hanno detto gli altri abbiamo messo in campo le decisioni più opportune per affrontare l'emergenza ho sempre garantito ogni forma di collaborazione con la procura di bergamo come persona informata sui fatti e ma stavolta non sei più informato sui fatti stavolta sei indagato che è diverso molto diverso come afferma la stessa procura l'avviso della conclusione delle indagini premiari non è un atto di accusa bensì un atto di garanzia per l'indagato l'avviso di garanzia si chiama e stiamo lì a guardare le parole vabbè insomma vabbè cosa vi devo dire intanto la nota della procura dice che c'è stata una fuga di notizia in serata il procuratore di bergamo antono chiappani ha confermato attraverso uno stringato comunicato stampa la chiusura delle indagini con 17 persone indagate a vario titolo conte e speranza non rientrerebbero nel conteggio proprio perché delle loro posizioni si occuperà il tribunale dei ministri a brescia bene io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata